Ci siamo, tre ore avremo i bimbi, tutto è pronto, sono pronti il kit con cui accoglieremo i bambini, è un kit minimo, acqua, copertine metalline e biscotti, ci sposteremo poi in una zona sicura dove li rifocileremo, li visiteremo, ci saranno i psicologi ucraini che ci daranno una mano, presumibilmente la zona sicura sarà a Cracovia, ci metteranno a disposizione un albergo, i bambini si riposeranno e poi partiamo per la Sardegna. Eccoci qua, io e Danilo pronti a organizzare il trasporto per i bimbi, siamo pronti con la nostra squadra a dargli il telino isotermico, una bottiglietta d'acqua e un pacco di biscotti subito e tanto amore della Sardegna. Va bene, adesso organizziamo, organizziamo perché il tempo è tiranno anche per noi. Un abbraccio, e i bambini sono sotto la neve, un abbraccio a tutti.